stati generali del vending 2023 siamo a roma oggi è l'otto novembre 2023 e ci troviamo in compagnia di ernesto piloni il presidente di venditalia che intanto saluto buongiorno ernesto buongiorno fabio ci troviamo qui perché stanno per cominciare gli stati generali ci sarà anche un tuo intervento di che cosa parlerete in questa occasione siamo pochi minuti dagli inizi e vedo già un parecchia gente che si sta accreditando l'intervento di venditalia sarà chiaramente un po un po di storia un po di novità parleremo di parigi che è stato per noi il primo passo all'estero interessante perché l'abbiamo fatto perché abbiamo suddiviso le aree geografiche di interesse della fiera che sta diventando un evento anche locale perché il travel macchine treno diventa interessante per la fiera per cui abbiamo fatto parigi 2023 tra gli altri temi c'è sicuramente da affrontare il futuro di venditalia venditalia sarà nel 2024 a milano ro non più a milano city e abbiamo già sull'evento 2024 un terzo dei pre iscritti a così tanto inizio dall'evento per cui devo dire che si preannuncia come un evento ancora tra quelli da archiviare come storici e straordinari possiamo preannunciare una primizia una o più primizie delle novità di questa edizione 2024 stiamo pianificando le nuove attività l'area espositiva è completamente diversa su un piano unico quindi una distribuzione degli spazi sicuramente più ospitale più facile da da girare stiamo organizzando anche degli special guest e vorremmo organizzare e portare chiaramente venditalia dei nomi noti con dei case history molto interessanti per quanto riguarda chiaramente le presentazioni di nuovi prodotti o nuove strategie o metodi consoni alla distribuzione automatica per questo lascio alle aziende che parteciperanno chiaramente di fare le loro presentazioni siamo molto incuriositi dalle novità decisamente allettanti di questa edizione 2024 di venditalia ti ringrazio per il contributo e ne parleremo ancora più diffusamente su vendingnews.it e la rivista vending news ora ti lascio perché sta per cominciare i stati generali del vendi 2023 grazie fabio e buona giornata e buoni stati generali a tutti grazie ancora